Buonasera a tutti, il Beauty Fashion Show partirà anche da Oleggio per la copertura della provincia di Novara e di Verberne Cusio Ossola. Saremo ospitati al Dinamo Restaurant, un locale accogliente, un locale molto bello dove potremmo vivere un sogno. Lasciarei la parola adesso a Enzo Stanzione, titolare di questo bellissimo locale. Enzo, avremo qui il casting per le selezioni di Miss Dinamo Oleggio. Cosa ne pensi, cosa ti aspetti da questo evento? Io sicuramente mi aspetto una bella immagine per quanto riguarda il locale, quindi avere un bel riscontro a livello di persone nuove che vengono a visitare questa bella location e grazie a Gennaro che comunque ci porterà delle belle ragazze. Speriamo comunque di avere un bel riscontro, sicuramente. Enzo Stanzione è simpaticissimo, ci accoglierà nel modo migliore possibile e adesso attendiamo un bel riscontro da parte delle ragazze. Iscrivetevi in numerose perché qui ci sarà veramente un sogno da vivere.